Approvato nel corso della giunta regionale lo schema di protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo e il Tribunale di Pescara che disciplina i termini per una collaborazione interistituzionale con finalità di interesse reciproco. Il governo della regione, ha spiegato il presidente D'Alfonso dopo la nota del Tribunale di Pescara che richiedeva di colmare le scoperture di organico e garantire la funzionalità della giustizia sul territorio regionale facenti capo al medesimo Tribunale, ha deciso di accogliere la richiesta prevedendo la possibilità per il personale che ne farà esplicita richiesta di essere trasferito negli uffici giudiziari del capoluogo adriatico. Il provvedimento approvato prevede che l'apporto collaborativo potrà essere prestato da personale dipendente della regione Abruzzo che manifesti la propria disponibilità e da individuare a seguito di avviso interno e hanno tenuto conto delle specifiche professionalità richieste. Nella stessa giornata l'Aggiunta ha approvato la delibera concernente il piano triennale della viabilità regionale relativamente all'accordo di programma con i comuni di Città Sant'Angelo e Silvi Marina e con le province di Pescara e Teramo per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Piomba per un importo di 2 milioni di euro. Nel provvedimento l'Aggiunta prende atto della modifica della convenzione sottoscritta tra le province di Teramo e di Pescara e i comuni di Silvi Marina e Città Sant'Angelo con la quale si stabilisce che spetti alla provincia di Teramo la realizzazione dell'opera compresa la procedura di gara, la direzione dei lavori e la nomina della commissione di collaudo. Viene inoltre stabilito che l'intero finanziamento venga erogato in favore della suddetta amministrazione disponendo che tutti gli obblighi del soggetto attuatore siano in campo alla stessa provincia. Attenzione è stata rivolta poi anche alla questione Arap. Nel dettaglio l'Aggiunta in una nota dichiara che il potere di trasferire il personale in servizio nel Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara all'azienda regionale per le attività produttive rientra nel novero dei poteri dei commissari liquidatori e, come tali, possono essere esercitati senza attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Aggiunta regionale ribadendo la validità delle direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara e demandando ai commissari liquidatori la facoltà di predisporre i relativi atti.